Il primo derby dell'anno, il derby Supercoppa va alla Fabo, 75-78 Coach Barzotti, il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? No, il bicchiere è mezzo pieno perché intanto usciamo da questa gara dopo tre settimane senza acciacchi non è successo niente e questo è positivo perché sai, tutte le gare quando forzi un po' c'è il rischio in preparazione è molto presto, le due squadre sono in allestimento, siamo stati bravi a vincerla, abbiamo avuto voglia di vincerla quando a un certo punto sembrava che tutto girasse un pochino contro di noi ma non girasse cioè la partita, i segnali stavano andando in mano a loro, abbiamo avuto freddezza, abbiamo avuto fiducia abbiamo preso magari nel quarto quarto due o tre palloni di energia in più rispetto a prima siamo stati bravi a saper soffrire, a portarla a casa Un bocco al lupo allora per l'impegno di mercoledì a Livorno Vive il lupo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!